Io credo che che se ne dica, che ne possano dire gli addetti ai lavori da parte di Juventus, non dico che si aspettassero una partita come quella di Coppa Italia, però quasi. Io penso che Allegri e Cosi aspettassero una partita comunque abbastanza semplice e invece la Salernitana ha tirato fuori gli artigli e io ho visto proprio una Juventus disorientata. Perché dove i primi dieci minuti, un quarto d'ora, dove comunque la Juventus aveva creato delle occasioni, era andata vicino al gol anche con Danilo, con un bel colpo di testa e quant'altro, poi la Salernitana è salita in cattedra, secondo me trovando un vantaggio che era anche meritato, tra l'altro anche con un bel gol di maggiore. Io in tutta la partita ho visto una Juventus molto nervosa, ne parlavo ieri in privato con Giacomo, l'altro ragazzo che fa le live con noi, e parlavamo di questa cosa e gli ho detto, secondo me i giocatori della Ju erano nervosi, ma non tanto per il risultato, non tanto per una qualche protesta, erano nervosi tra di loro. C'è stato un momento, forse Cesario, che avrà visto la partita con più attenzione in quanto tifoso, se ne sarà accorto, in cui non mi ricordo se è Rabiot che sbaglia il passaggio per Bremer o Bremer che sbaglia il passaggio per Rabiot, un minuto prima che poi la Salernitana segnasse, è in cui praticamente si sono presi a male parole tra di loro, c'è stata un'incomprensione, lo stesso Danilo era molto nervoso, Vlaovic è tornato a fare una partita, secondo me, molto trascinata da questo nervosismo, da questa rabbia agonistica. Infatti la Juventus ha fatto una partita in cui poi è attaccato nel secondo tempo, però in maniera molto forsennata, meno precisa del solito. Poi il pareggio è venuto fuori per caso, perché alla fine il pallone Eling arriva per una svirgolata di Vlaovic, quindi non gli sarebbe dovuta arrivare quella palla, poi è stato bravo lui a sfruttare l'occasione e tra l'altro, personalmente, ne sono molto contento, perché io ritengo che Eling Junior sia un ragazzo delle grandi potenzialità e che quest'anno ha giocato davvero poco e forse anche per questo, quando è stato chiamato in causa, non ha fatto benissimo. Però ha fatto un bel gol e ha cambiato la partita. Pare ci fossero questioni contrattuali anche, non si capisce. Sta di fatto che comunque il terzo giocatore nato dal 2003 in poi ad aver segnato con la Juve questa stagione in Serie A e soltanto il Barcellona ne ha, oltre a Miretti e Ildiz, soltanto il Barcellona ne ha più in tutta Europa, nei top 5 campionati e che meriterebbe, come dici tu, più spazio anche perché Kostic è stata una delle note negative della gara. Volevo poi arrivare a questo perché Eling ha cambiato la partita e secondo me, per quello che era stato il primo tempo, oltre poi ovviamente all'espulsione di Maggiore perché giocare in superiorità numerica è un vantaggio, anche il cambio di Rugani ha comunque cambiato le sorti della partita della Juventus perché Gatti, polemiche sul giallo, non giallo, rosso, non rosso, a parte, secondo me ha fatto una brutta partita e io continuerò a dirlo, può anche fare i gol al novantesimo minuto, ci fa piacerissimo, Gatti non può fare il titolo nella Juventus. L'abbiamo capito che ho di Gatti, l'abbiamo capito, l'abbiamo compreso. Il discorso è che io non lo so, perché tra l'altro anche la storia... È un giocatore proletario e quindi ti sta sul cazzo. No, su Gatti dopo, su Gatti dopo dico anche qualcosa e probabilmente non in contretendenza con quello che dice Alessandro. Perché comunque ha fatto un'altra brutta partita, secondo me è un giocatore che paradossalmente gioca meglio contro le grandi squadre, forse perché sente la partita, sente tanto la motivazione, nelle partite in cui tendenzialmente dovrebbe fare meglio per il livello degli avversari, tende a farsi trascinare dal nervosismo, dalla foca agonistica. E il suo intervento e comunque la sua prestazione, così come in Coppa Italia, stavano trascinando in maniera negativa la stessa Juventus. Poi c'è stato un po' di ripresa anche perché Vlaovic è entrato più nel gioco. Ora, io che lo proteggo sempre, secondo me non ha fatto una bellissima partita. Sarebbe stata una partita da 5 e mezzo alla fine perché ha fatto delle cose buone, che tra l'altro è una frase che non è proprio il massimo da dire, però insomma delle sponde interessanti. Una molto bella proprio per Ealing che ha sfiorato il 2-1 con un destra al giro. ha fatto cose meno buone e proprio Vlaovic non mi è piaciuto sempre per quanto riguarda il nervosismo perché se la prendeva continuamente con i compagni. Ogni volta Vlaovic se la prendeva con i compagni, sbracciava, si lamentava e quindi ho detto questa partita non la vinceremo mai. Poi però al novantesimo ci sono i colpi del campione perché queste partite vengono risolte anche con i colpi del campione perché Danilo fa una giocata da campione e perché Vlaovic fa un gol da campione perché il gol di Vlaovic è un gol secondo me bellissimo, un gol che in pochi attaccanti a quanto meno in Serie A riescono a fare perché svette in mezzo a tre, la colpisce con forza anche perché il colpo di testa non era angolato e comunque Costil non è un portiere facilissimo da superare quindi bene per Vlaovic, ha fatto davvero un bel gol e di questo sono contento però io più di tutto sono contento del risultato perché la Juventus nei due anni precedenti una partita che si metteva in quel modo con lo svantaggio iniziale, con il nervosismo e tutto non l'avrebbe mai vinta. Quest'anno abbiamo detto mille volte che questa squadra ha sempre dei limiti nella proposta di gioco in certe situazioni, Pereo è una squadra che ha acquisito una mentalità soprattutto in alcuni singoli in cui questa mentalità mancava lo stesso Vlaovic, McCennie che è un giocatore rinato Danilo che alle volte manca in quelli che dovrebbero essere i suoi fondamentali dal punto di vista difensivo però appunto prende la squadra sulle spalle e piazza l'assist del campione quindi è una vittoria che secondo me dà tanto morale anche perché la Juventus doveva tenere la scena dell'Inter se la Juventus ieri non avesse vinto ci sarebbe stato un contraccolpo psicologico non indifferente e quindi non sarà stata la vittoria più bella della storia però la vittoria di ieri era fondamentale e io sono contentissimo di questo Io vorrei dare la parola a Cesario e gli chiedo non solo la sua sola Juve, quello che abbiamo detto ora ma anche chiaramente il lato salernitano come la vedi sia nella partita in sé che in generale perché Inzaghi continua ad essere molto sicuro su questa cosa e io devo dire che concordo anche perché la classifica sotto è molto molto corta sulla salvezza della salernitana lui è abbastanza nelle dichiarazioni perlomeno è abbastanza sicuro di questo e io sono d'accordo perché secondo me alla fine la salernitana si salverà anche perché mi aspetto un mercato importante per una squadra che lotta per la retrocessione adesso e competente perché c'è Sabatini per cui come la vedi tu in generale questa cosa qui è la prestazione in sé io sinceramente peraltro aggiungo me l'aspettavo di andare di vedere una partita totalmente diversa da quella di Coppa Italia perché per vari motivi tornavano dei titolari importanti la partita di Coppa Italia comunque la salernitana era interessata fino a un certo punto a vincerla la Juve giocava in casa ora giocava in trasferta e comunque il fattore campo è importante per entrambe quindi sono vari fattori Cesario scusami se ti anticipo magari ti do il lanche per questa riflessione veramente ci metto un secondo ieri si è vista anche la differenza tra avere davanti alla difesa in cabina di regia Manuel Locatelli e Anzi Nicolussi Capiglia che secondo me è stato sostituito c'è stato un po' di discordanza tra le varie opinioni però per me ha fatto un altro ultimo partito e peraltro sembra direzionato anche lui verso la salernitana però non si sa perché si è un po' raffreddata la pista degli altri spero di no spero dei vari giocatori di centrocampo che si cercava comunque sei mutato Cesario non so se lo sai no no sì lo so aspettavo un momento insomma di dire aspettavo quel momento parto dall'ultima poi insomma giusto qualche paolina un paio di questioni della Juve e poi diciamo parlo del lato salernitana insomma concludiamo con l'ippocampo e allora sulla questione appunto di Nicolussi Capiglia attenzione è un giocatore che piace tanto a Sabatini e di cui avrebbe estremamente bisogno la salernitana perché io lo dico sempre se la salernitana giocasse col centrocampo a tre con Maggiore e con i balichi ora in Coppa d'Africa è un regista che sa veramente stare sul pezzo perché Borini purtroppo ha deluso continuamente per quanto all'inizio sembrasse veramente un bel giocatore però gli dico attenzione che a centrocampo per la salernitana in quel momento c'era Ederson non a caso uno è ancora a Salerno l'altro è Bergamo piace molto a Sabatini e il fatto è che Allegri ha detto di no nel senso chiuso a qualunque cessione di Mietti o Nicolussi però adesso ho capito bene perché Nicolussi non è un calciatore che piace tanto ad Allegri né tanto meno ad Allegri a Nicolussi piace tanto giocare negli schemi appunto nel trame di gioco se ci sono trame di gioco schemi di Massimilano Allegri perché si è raffreddata la pista Calvin Phillips che non sembra appunto essere più l'indiziato numero uno di mercato alla Juventus ma sono convinto che il centrocampista a Torino arriverà e potrebbe anche poi sbloccarsi numericamente diciamo la cessione in pressione di Nicolussi però vediamo perché mi sembra che diciamo Sabatini si è interessato a fare il mercato soprattutto nelle ultime settimane sulla Juve sono completamente d'accordo su quello che ha detto Alessandro quindi non mi voglio ripetere ma voglio dire qualcosina insomma sulla questione Gatti e poi fondamentalmente Danilo perché il discorso è strettamente strettamente legato più di quanto si immagino io ho dato come sempre un po' di voti un po' di numeri perché mi diverte perché insomma ripeto è per deformazione professionale e io alle due partite ho dato ben tre voti di differenza cioè io ho dato 4 a Gatti e 7 a Danilo perché io non lavoro per nessuna testata quindi insomma non ho bisogno di prendermi i pareri dei ragazzetti che devono fare fantacalcio né tanto meno appunto diciamo di essere giudicato per i numeri che do e la spiego lì la differenza perché no 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 perché quest'anno no 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 nel senso i voti li do i voti li do come voglio io voti li do come voglio io sì mi nervini allora torniamo insomma il cambiamento nell'impiego di Gatti quando appunto l'anno scorso Gatti è stato impiegato molto di più ricordiamo che prima insomma diciamo di questo ingresso nelle diciamo gerarchie della Juventus di Gatti i titolari difensivi della Juve erano Alexandro, Bremer e Danilo il compito diciamo da fare un po' da raccordo da centrocampista aggiunto e anche per caratteristiche e quindi diciamo anche di salire più spesso anche sui piazzati era dato prevalentemente a Danilo che era praticamente un centrocampista aggiunto giocava quasi al limite dell'area di rigore insomma della linea difensiva e anche di centrocampo della squadra avversaria sempre attivo nelle triangolazioni diciamo offensive spesso e volentieri andava al cross o comunque diciamo era il primo giocatore assieme a Bremer su cui si puntava quando si saliva da calcio d'angolo Gatti poi si è visto che è un giocatore in realtà difensivamente molto disattento e molto diciamo molto di foga che sale spesso e volentieri e secondo me il cambiamento nell'impiego di Gatti in quello di Danilo diciamo sta tutto quanto lì al ruolo di Danilo che saliva più spesso che si sovrapponeva insomma è andato poi diciamo la figura di Gatti e invece Danilo ha preso quindi un compito più da regista diciamo difensore a fianco a Bremer un po' più puro Danilo non ha mai fatto il difensore centrale Danilo è nato terzino è stato impiegato anche più avanti in realtà più avanti viene impiegato Danilo e meglio rende secondo me insomma ma questo lo dicono i numeri lo dicono le prestazioni penso a Danilo centrocampista penso a Danilo contro il Cagliaro contro il Monza entrato in trame le volte al centrocampo tutte e due le volte da sei e mezzo pulitissima quindi secondo me il calo di Danilo non è tanto legato all'età o perché Danilo non è difensore da Juve leggo ancora spesso nei commenti in una Juve fortissima Danilo non potrebbe giocare Danilo giocherebbe titolare anche in squadre molto più forte della Juventus perché è un giocatore che a livello di personalità l'ho detto Giacchino ieri in un commento sacrosanto a livello di personalità a livello di caratura a livello di mentalità Danilo è un giocatore su cui non puoi assolutamente rinunciare a Gatti io rinuncio a Gatti io rinuncio oggi e anche domani perché Gatti ultimamente mi si è permesso direttore ha rotto un po' il cazzo perché una volta e due volte e tre volte anche quattro no sono già diventate quattro o cinque le volte in cui Gatti quest'anno ha rischiato veramente tanto di lasciarci in dieci perché a volte diciamo più che una storia da una provinciale viene da a volte mi sembra che la mentalità di Gatti non sia ancora una mentalità da grande squadra perché spesso e volentieri esagera per esagerare perché il contesto in cui si trova è un contesto più esagerato più grande di quello in cui è abituato Gatti e spesso finisce per essere chiaramente diciamo fuori un po' tra le righe passo al lato salernitano io chiaramente l'altra volta mi sono espresso a sfavore diciamo di alcuni giocatori più a Tambià Bron Lovato Botheim e ho citato insomma i miei amici Pligol e Plugol Gorgo insomma Jim Bloop non li citerò anche oggi o meglio li ho citati ma non li voglio citare come ho citato comunque scusami visto che stai avendo un altro parentesi ti aggiungo una cosa per confermare quello che dicevi su Danilo Danilo è il classico giocatore al quale Allegri non rinuncerebbe mai un po' come un tempo erano i Kedira i Mandzuch quella caratura di giocatori lì quindi non solo il livello è proprio una questione di cioè è quel giocatore lì che è un campione anche per come sta in campo Allegri probabilmente l'ha fatto spesso questo discorso lui su questo tipo di giocatori lui e sono giocatori per lui Sì asettici anche un po' steampunk Danilo è un fusibile Danilo è un ingrenaggio se non c'è Danilo cade il macchinario e perché è quello che va o le aria per mettere il funzionamento del tutto non dal punto di vista tecnico-tattico ma perché con lui in campo si vede che c'è un approccio differente uno che si fa sentire poi il cross di ieri la dice lunga su quanto fondamentalmente Danilo qualitativamente sia superiori a Gatti e debba assolutamente giocare titolare nella Juve ma io diciamo al di là di questa storia diciamo che chiudo qui io passo al lato Salernitana perché io l'ho detto l'altra volta guai a definire la Salernitana la squadra che abbiamo visto in Coppa Italia mancavano tantissimi tanti di quei giocatori a Filippo Inzaghi e ne mancano ancora ne mancano ben sei che era praticamente impossibile legarsi al giudizio globale della Salernitana a quello visto giovedì la Salernitana si è dimostrata una squadra completamente diversa e sono diventate già tante le partite in cui le prestazioni sono più che convincenti il pareggio col Milan che dovrebbe essere una vittoria ma vabbè è andata così la vittoria col Verona e poi chiaramente questa bella prestazione contro la Juve perché la Salernitana è stata aggiornata una bella prestazione giocatori che veramente a volte sembravano un po' un oggetto misterioso sono rivitalizzati uno come Giulio Maggiore che ci ha messo quel mordente quella forza quella foga anche troppa va a dimostrare quanto in realtà il giocatore sia stato ripreso mentalmente da Inzaghi che non sarà un guru dal punto di vista della tattica degli schemi ma è uno che i giocatori te li sa rivitalizzare e Salernitana è una piazza che chiaramente tutta nell'insieme se si rivitalizza dal di dentro poi viene diciamo aiutata anche dal di fuori sulle dichiarazioni di Inzaghi e poi chiudo su una cosina diciamo su un altro amico mio che ha giocato ieri per poco tempo in campo sulla dichiarazione di Inzaghi perché Inzaghi sta puntando molto sull'elemento salvezza sicura salvezza sicura salvezza sicura perché in realtà non è l'uomo giusto per la salvezza secondo Sabatini Inzaghi è stato scelto da Iervolino e sappiamo bene che Iervolino e Sabatini hanno due mentalità completamente diverse quindi Inzaghi sta molto attento a non fare passi falsi perché in realtà diciamo se Sabatini potesse cambiare anche adesso lo farebbe tranquillamente quindi comunque diciamo questa cosa va detta però oggettivamente io devo essere sincero io sono il primo che critica Inzaghi però la salvezza è una squadra trasformata cioè io in questo momento se vedessi giocare salvezza nel Cagliari io farei fatica prima della gara a dire la partita finisce in pareggio la vince il Cagliari perché in questo momento la salvezza è una squadra che per quello che mette in campo per come lo mette tra l'altro Antonio Ganderevi il rinunciabile l'ho capito anche in Zagli non lo voglio mai dal campo è una squadra che veramente può portare diciamo la piazza a rimanere ancora in Serie A e se lo meriterebbe ultime cose che dico legate ad un mio carissimo amico che di nome primo fa Charles di secondo fa Chukubuikem che è carissimo Iguemesi Iguemesi insomma è uno degli attaccanti portati a Salerno da Morgan molto più bravo in porta che diciamo con le dichiarazioni quelle a Wolverhampton o diciamo nel suo lavoro a quanto pare Iguemesi è l'autore l'artifice ieri della sconfitta secondo me della Salernitana perché il pallone che perde Iguemesi in quella zona del campo facendo l'ultima scelta possibile a livello di convenienza è così sanguinoso che poi la Juventus riparte e segna lo voglio difendere in realtà al di là del nome Buffo e del cognome che è insomma un po' particolare Iguemesi in realtà ho visto di peggio sia a volte si dice ragazzi italiani dovremmo puntare io ho visto di peggio sia come ragazzi italiani che come ragazzi diciamo che vengono da fuori dall'Italia penso a Trivante quindi già lì l'elemento di paragone ce l'ha in campo ma basta citare Botaim perché a volte siamo fissati io in primis con questi calciatori nordici che vengono in Italia sul back in Botaim tutti quanti i fuchi di paglia Botaim è l'immondezza fatta immondezza a livello di infatti Inzaghi l'ha messo una volta in campo l'ha messo una sola volta in campo e questa è la più salute ma Salerno sono abituati a questi nomi perché avevano Christophersen che è proprio l'emblema da questo punto di vista e quindi io mi auguro chiaramente che la Salerno dico da tifoso perché ormai diciamo quando ieri guardavo la partita io di la verità ho anche un po' sorriso vedere Inzaghi che risultava con la stessa foca con cui è risultato contro la Repubblica Ceca e contro il Liverpool ma inzaghi anche quando fa gol contro il suo figlio di due anni fa così però devo dire la verità la piazza si è ripresa si è revitalizzata i tifosi pure e anche i giocatori che sono centrali nella Salernità l'ultima cosa mi sono scordato abbiamo parlato di Gatti difensore qua ma vogliamo parlare di Federico Fazio cioè ieri Federico Fazio aveva fatto un'altra partita da sette in pagina dopo aver annullato molti degli attaccanti del Milan ha annullato per l'ennesima volta gli attaccanti di un'altra grande squadra quelli della Juventus quindi ecco la differenza sta tutta quanta lì sull'essere un buon difensore lo puoi essere anche a 34 35, 36, 37 anni e poi c'è Federico Gatti che con tutto il bene che si vuole in questo momento è l'ultimo giocatore che schiererei l'anno prossimo titolare nella difesa della Juve quindi quelli che dicono ma ce l'ho non ci serviva ma ce l'ho numericamente non ci serve secondo me serve come pane in questo momento anche perché Alexandro mi sa che resta a maccire là sulla panchina quindi ben venga ben venga e il record è ancora a salvo mamma mia comunque una cosa voglio dire su Gatti visto che lo state infamando stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha la prima stagione da titolare in Serie A cioè questa cosa non va dimenticata per cui è normale che nel contesto Juve che è il contesto di una squadra cioè lui non ha fatto il passo G intermedio è passato da una squadra di Serie B alla Juve che si sta giocando il titolo e l'anno scorso ha giocato praticamente solo la seconda seconda metà di stagione perché prima non giocavo per cui c'è bisogno anche di tempo per quasi un anno e mezzo un po' direi ho capito è un giocatore molto molto grezzo cioè si vede che è un gregario non proprio diciamo allineato a quella che è la dimensione che dovrebbe avere una squadra come la Juventus poi è chiaro che deve anche essere realistici e tenere conto il momento attuale della Juve quindi se attualmente Gatti è titolare della Juventus motivo lo hai detto tu però era diverso quello abbiamo quello mettiamo in campo oggettivamente da quelli che sono in panchina anche per quello che fa Rugani perché io li voglio bene però per quanto abbia fatto bene nelle partite in cui ha giocato quest'anno è comunque Daniele e Rugani però è appunto diceva Alessandro la differenza già tra i due si vedeva già dall'inizio Gatti e Rugani hanno avuto degli impatti differenti a livello di temperamento Gatti è superiore ma a livello tecnico Rugani a livello tecnico non si dispende anche da chi le ha allenati cioè però non vuol dire che Rugani che Gatti è stato decisivo anche più di una volta se la Juve sta lottando per lo scudetto è anche grazie a lui comunque ma qui nessuno nessuno fa diciamo una colpevolizzazione totale di Gatti però io lo devo valutare per le prestazioni difensive di Gatti si prende quello buono però quello buono dove viene viene davanti alla porta quando va a segnare e salta sul calcio d'angolo che sembra una ranoccia che veniva diciamo era molto povero dal punto di vista difensivo esatto e poi veniva buttato avanti quando bisognava segnare è diretto però il discorso è che i gol presi per colpa sua o comunque anche per colpa sua iniziano a pesare quest'anno anche i mancati rossi che non sono arrivati ma per grazia per grazia di qualche svista o magari la maggior parte di voi che ha preso la Juve vengono dal lato di Gatti questa io dico solo che per i motivi che ho spiegato e per quello che sto facendo sono un po' ingenerosi questi questi pareri per come la vedo io detto questo anche il primo Chiellini non era di certo convincente per dire uno dei migliori disensi di questo però dai no vi sembra una cosa impossibile da paragonare ma è così perché il primo Chiellini giocava in una Juve è giocata in una Juve però è un'altra storia dipende anche dal contesto del calcio l'evoluzione del ruolo del difensore ma secondo me è stato bistrattato ma a livello tecnico non dico un abisso che è una bella distanza tra Chiellini e Gatti poi Chiellini non c'era un altro ruolo secondo me poi Chiellini comunque è diventato centrale alla Juve prima non c'era Terzino sono anche cose diverse io ve l'ho detto quello che penso ho detto questo una cosa velocissima sulla Saternitana proprio rapidissima è un commento positivo in realtà su Chiaunagri a me è un giocatore che piace un giocatore che piace l'unico l'unico equivoco legato alla sua presenza in campo è che come talto dicevo anche ieri andrebbe di fatto a dirottare in maniera automatica che andrebbe poi sull'altro lato e che andrebbe sul diciamo ecco poi sulla sulla sinistra è un pochino va un pochino più in difficoltà che andrebbe bene dappertutto ma quando passa a destra in quel momento della gara però a destra si vede che nessuno c'è differenza ma anche perché poi a destra c'era Mazzocchi invece a sinistra deve comunque stare a capire a che fare con Radaric che viene comunque da un contestino diverso quindi sono d'accordo con Giacchino però comunque quando Regan Reva e hai Chiaunagri a questo punto ti tiene entrambi in campo non dico che di mezzi abbassi il valore dell'uno nei confronti chiaramente della validizzazione dell'altro perché Chiaunagri secondo me ha dei margini di crescita ancora troppo sottovalutati non si vede ancora però è un bel diamantino grezzo su cui si può puntare perché si vede che almeno uno De Santis lo doveva prendere bene è uno la figliata è uno di quei giocatori che a Sabatini piace parecchio è uno di quei giocatori che su cui Sabatini avrebbe potuto mettere anche gli occhi se per esempio non fosse stato già acquistato insomma ecco dalla Saternità detto questo secondo me De Santis è stato anche molto sfortunato per vari motivi e sono sicuro che è molto più capace di contro non si dica in questo momento ma che sfortuna c'è che prendi Giovanni Stewart ma che sfortuna ma perché ha capito Giovanni Stewart ma quale sfortuna no 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 allora io l'ho difeso l'ho difeso fin dove l'ho difeso ma la gestione del caso cioè della questione di D.A. ma troveremo mai una persona che difendiamo entrambi nello stesso modo no ma è possibile perché detto questo io pure volevo aggiungere solamente un'ultima cosa sulla Saternità che è che sono contentissimo che Andreeva anche a fine carriera stia ricevendo il trattamento che aveva un po' perso negli anni all'Inter in cui era diventato per colpe per ultimo sue meme nel calcio italiano dove credo che il tifoso medio sia ampiamente inferiore alla media degli altri campionati perché Andreeva che è il giocatore che io ho più amato della mia squadra era tecnicamente ed è un giocatore sublime sono molto e secondo me a fine carriera ha anche diciamo acquisito quella maturità che gli ha permesso di giocare anche un po' da fermo sostanzialmente adesso perché chiaramente non può più avere lo scatto che aveva tra i 24 e i 28 anni sono molto contento che stia finalmente ricevendo il consenso anche in questa parte della carriera che merita ci sono un po' di giocatori che stanno vivendo un redemption arc dal punto di vista dell'opinione collettiva perché poi in realtà non meritavano quegli insulti lì e Andreeva è uno di questi sicuramente perché oggettivamente un giocatore che non meritava a un certo punto veramente era insostenibile la situazione di cross di Andreeva sempre stesse stupidate comunque cinque assist quest'anno già cinque assist quattro gole e cinque assist quindi i cross di Andreeva sì sì peraltro poi vabbè lasciamo perdere non apriamo parentesi anche perché sto dando statistiche a caso andando a memoria volevo dire per chiudere molto bene tutti quelli che avete menzionato eccetera molto bene anche Ildiz che ha fatto un'altra buona partita secondo me però secondo me il migliore in campo è stato McCanny ed è una cosa che è incredibile perché non pensavo mai di dire per una partita della Juventus post non lo so post Pirlo diciamo e invece quest'anno sta facendo un campionato incredibile però si è vista la differenza tra quando ci sono McCanny e Cambiasso sulla destra e McCanny e Weah perché hanno provato a fare lo stesso schema però non per colpa di McCanny no no però hanno provato a fare lo stesso schema con l'esterno che si accentra e McCanny che si allarga e la differenza tecnica tra Weah e Cambiasso è un altro è un altro un'altra sorpresa un altro giocatore posso dire che c'è una Juve con e una Juve senza due giocatori che sono chiese e Cambiasso quest'anno è verissimo è verissimo chiesa lo sappiamo già però Cambiasso è una sorpresa io mi aspettavo ma non così tanto comunque anche Kostic sta facendo malissimo Kostic peggiore di che andrea all'Inter a un certo punto ieri ha fatto tre cross di fila sulla schiena del difensore io vabbè lasciamo perdere ma fa proprio fatica a fare il secondo passo è meccanicissimo cioè proprio c'ha le traiettorie di quel treno capito cioè i binari a volte sai tipo i vecchi giocatori di PES che correvano sui binari che non avevano il movimento a 360 gradi la scessa cosa